Errore mi sa, ha già perso, ha già perso, ragazzi, ragazzi, questa è la giornata, è la giornata no per i miei avversari, cioè ha già perso, questa è già da abbandono, perde un pezzo, 1831 ragazzi, siamo su chess.com, sul sito considerato diciamo il più veritiero come forza di gioco, come punteggi, 1831 dopo 9 mosse da abbandono la partita. Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo episodio livello intermedio sulla scalata su chess.com, prima partita contro un 1777, benissimo, e4 c5, alfile c4 interessante, facciamo g6, queste varianti con alfile c4 di solito si può giocare anche e6, però dipende, allora conviene giocare 6 quando il bianco gioca c3 e conviene fare altro se ovviamente il bianco gioca cavallo c3, quindi ora per non dargli troppe indicazioni proviamo a sviluppare semplicemente l'alfile per vedere ciò che fa, ad esempio lui ha giocato d3, una mossa un pochino timida, a meno che lui non voglia impostare un attacco grand prix, ma non mi sembra, come vedete ha giocato cavallo f3, beh a questo punto non saprei, facciamo anche cavallo f6, non so se è un po' rischiosa perché ci potrebbe essere la spinta in e5 da un momento all'altro, però la evitiamo facendo d6, ora su e5 ovviamente segue pedone per e5, invece si sta proprio preparando per infastidirmi, interessante, ok, allora ritardo l'arrocco, gioco h6, bene, bene bene, cavallo h5, via questo alfiere, via via, e poi forse e5, e non dovrei stare male in questa posizione, è vero non posso arroccare corto se lui mette l'alfile in e3, però, ora vediamo un attimo, posso giocare cavallo d4 ad esempio, oppure e5 cavallo d4, vediamo, vediamo, ci sta già pensando, mi sembra strano, l'alfile g3 è sbagliata, quindi qui c'è poco da pensare, l'unica mossa decente che ha il bianco in questa posizione, cioè non vedo nient'altro, oppure se arrocca direttamente mi lascia l'alfiere, cioè sarei molto contento di ciò, ecco, mettiamola così, boh, sir j j j j j j j j j j, che fai? eh, carissimo, se tu mi lasci trascorrere il tempo in questo modo, ok, vediamo, si sta prendendo del tempo, è la prima mossa in cui si mette a pensare alla nona mossa del bianco, Vediamo cosa ci tira fuori in una posizione del genere Questo secondo me è andato direttamente a farsi il caffè Gioca dall'ufficio È al lavoro e si mette a giocare a scacchi Bah, chissà in quanti lo fanno che giocano a scacchi Quelli che lavorano in ufficio, secondo me qualcuno sì Ok, andiamo su Quando facevo il tirocinio in un'azienda privata Anch'io quando c'erano dei tempi morti Entravo per dare un'occhiata su di chess alle partite Lo ammetto, lo ammetto Gli scacchi creano dipendenza Comunque questo sembra sparito Via, si taglia il video Ok ragazzi, si è ritirato addirittura Mamma mia, mi ha fatto aspettare un sacco di tempo Ok, prossima partita Via, 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 via Prossima partita Devo superare i 1750 Ok, interessante 1805 Buono così E4 G6 Ok Arriva il Grand Prix ragazzi Contro G6 potete impostare tranquillamente un attacco Grand Prix dopo E4 F4 Ora sembra che lui stia proprio facendo diciamo La difesa ippopotamo Sembrerebbe quella Comunque potete impostare un Grand Prix lo stesso Anche in quel caso Anche in quel caso Proviamo ad arroccare Qui mi gioco alfiere B3 per sicurezza Perché potrebbe arrivare D5 da un momento all'altro Ecco, per quello Eh ma questo Cioè forse non gioca neanche così male È veloce Molto veloce il ragazzo Eh sì Ma se gli faccio F5 proprio così Diretta in questo modo Giusto per capire Cosa ci combina Cosa ci combina il nostro Eroe Ok Ok Ha catturato D pedone E Che strano Che strano Facciamo Donna E1 Donna E1 per fare Donna H4 Avevo diverse scelte Potevo fare forse anche Cavallo G5 Ma Donna E1 mi sembra ok Come mossa non è male Perché qui lui se dovesse catturare Quasi quasi gli arriva Boh Il sacrificio Alfiere per F7 Mi viene in mente Ok Lui è arroccato Male penso Non è granché l'arrocco Donna H4 Qui dovrei stare meglio Sì Dovrei avere un grosso vantaggio In questa posizione Dopo solo 12 mosse Direi Daniel Australia Eh sì Australia Ok Ha un punteggio alto Nelle rapid Penso sia considerato rapid 10 minuti Mentre Gli altri punteggi sono più bassi E comunque qua Cioè Stiamo calmi Ma Ho un vantaggio Mamma mia Che vantaggio Attacco F7 Questa sì me l'aspettavo Però non serve a granché Dopo questa Lui che fa Alfiere G5 Mettiamo pressione Sul cavallo Torre E8 Catturo E poi Alfiere per F8 Possibilmente Anche se Lui su cavallo per D4 Mi cattura Con scacco Fatto sta che Comunque qui Il vantaggio Del bianco È considerevole Anche perché Non può Farsi fare Alfiere per E7 Altrimenti Arriva la forchetta Su Donna E Torre Quindi non può Rischiare E se non può Rischiare Forse deve Ritornare indietro Se torna indietro È un disastro Perché arriva Comunque Cavallo D5 Eh Qui La posizione Ragazzi È messa malissimo Per Per l'avversario Eh Infatti è tornato indietro Ma quante volte L'ho fatte Queste partite Io Anche dal vivo Mi ricordo Quando giocai Il Grand Prix Per la prima volta Dal vivo Lo giocai contro Una prima nazionale E andò proprio così Lui giocò Cavallo D4 Poi ritornò indietro Per paura E qui Non so Penso Non Cioè Non ci siano storie Mi deve dare per forza Alfiere campo scuro Ora Le case scure Deboli E vado a vincere Facilmente Questa partita Minaccio Donna H6 Donna G7 Scacco matto Cioè Io penso già Una partita come questa Penso sia da abbandono Eh sì Questa è da abbandono Poi vabbè Se vuole giocare Può giocare Però Insomma Cioè sta per arrivare Tutto qui Praticamente Cavallo Cavallo G5 Donna H6 Minaccio Troppa roba Troppa roba Questo è il problema Per lui Troppe minacce Infatti ora Ci sta pensando Ed ha un po' Di mosse Che ci pensa Un po' Lui Ok Ha fatto questa mossa Inutile Completamente inutile Questa mossa E qui che fa? Cioè come Come me lo fermi Lo scacco matto Fai cavallo F5 Mossa disperata Ti catturo E poi Fine fine Game is over Dopo sole 18 mosse Dopo sole 18 mosse Grande vittoria qui Vedete? Attacco Grand Prix È una sicurezza ragazzi L'attacco Grand Prix È una sicurezza Ok Eh mo che fa? Si spera Abbandoni? Eh? Si spera Che abbandoni? No 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 Non mollare mai Dai che ce la fai Dai dai Anche il sacrificio di donna In H2 Mamma mia quanto è disperato Questo Questo ha fame di punti Questo ha fame di punti Ora la faccio in pre move Però L'avversario che non vuole perdere Ma si rende conto Che magari potrebbe Essere registrato Questa partita potrebbe essere registrata Lo sa lui o no? Comunque ci ha provato fino alla fine Incredibile Ha fatto anche torre 6 Pazzesco Prossima Prossima Siamo già sopra i 1750 Ok Questo mi fa molto piacere Ah ora solo un 1609 Che peccato Che peccato Però qui anche qui Grand Prix Non ce lo toglie nessuno Ma Eh Questa è strana Che è sta mossa Vabbè facciamo questa Cavallo D5 Eh perché ci ha fatto fare una mossa gratis Praticamente Ah Insiste ragazzi Allora facciamo così Insiste con donna C7 Incredibile Donna C7 La rivelazione Cioè Contrasta il Grand Prix Con donna C7 Incredibile Attenzione Poi fa cavallo D4 E mangia l'alfiere Ok Va bene Allora cerchiamo di chiudere La posizione Se tu mi mangi l'alfiere Intanto facciamo B3 per sicurezza Qui ovviamente Da E5 E5 E ora E ora Cioè senza neanche arroccare Perché non arrocchi Ok Questa Ho capito cosa vuole fare No Eh vabbè Mi sciandato il mouse Non la volevo fare F5 Perché comunque era rischiosa La facciamo così H3 Qui catturo No non ci credo È già da abbandono questa Non ci credo Guardate questi due pedoni Come sono forti Cioè lui rischia Rischia grosso qui Eh A voglia te A voglia te Pronto Sì 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 Domani a che ora Sì sì domani Domani Va bene domani Bene perfetto Grazie Arrivederci Ok Allora D4 No Eh Questa è una bella mossa No in realtà No c'ho scacco matto Meno male Comunque mi interrompono Sul più bello Anche ora mi è arrivata Una chiamata Praticamente Sto per mettere La fibra Evviva Almeno in questo modo Posso poi invitare qualcuno In live Insomma ci sarà da divertirsi Ragazzi Ok Quindi mi ero fermato Ecco appunto Un minuto e qualcosa Per quella mossa Semplicemente perché Mi hanno chiamato Al telefono Che mi portano il modem Semplicemente per questo Vabbè Chiusa parentesi Questa è da abbandono 20 mosse Lo vedete l'attacco Grand Prix È una sicurezza È una sicurezza Crea Scompiglio Eh E ora che fa Mi deve sacrificare la donna Anche lui non molla Anche lui Yanman Yanman Forza Yanman Forza Yanman Che fai Mi fai trascorrere il tempo Lo sai che Ti sto registrando Lo sai Eh vabbè Vai Cioè provano il tutto per tutto Ragazzi Non Non esiste l'abbandono Ah ecco Ah ecco Ecco Prossima Prossima Next one 1640 Tata Vai Tata Ah è vero È vero Devo provare lo Stonewall Perché me l'hanno chiesto Qualcuno mi ha chiesto di provare lo Stonewall Questa che è La siciliana con A3 Eh ma ti faccio alfiere G7 Bello Che vuoi fa? Eh eh Che vuoi fa? Qui cavallo C6 Ah C3 Interessante Allora su alfiere C4 abbiamo detto Si gioca E6 Quando lui ha la possibilità di fare C3 Quindi perfetto così Sto andando bene 1759 Questa Boh Non mi piace granché come mossa Non giocano granché ragazzi Pensavo meglio Cioè tutti a dire C'è spunto com C'è spunto com Sono fortissimi Ma dipende Sapete cosa vi dico io? Dipende A volte sì A volte sorprendono pure me Per come giocano Ma altre volte proprio Cioè Questo che avrebbe impostato qui Che roba è questa? Sta per beccarsi torre 8 Minaccio l'alfiere Se mi dà l'alfiere sul cavallo Lo ringrazio comunque Perché ho la coppia degli alfieri Qui un tempo ad esempio Non ce lo toglie nessuno Qui ho un vantaggio enorme Diva Ne abbiamo fatto fare rf1 Le due torri saranno scollegate a vita Insomma Insomma Vabbè Concentriamoci Perché ovviamente non è finita Però insomma Il vantaggio Del nero qui è palese Palese Netto Ok Però vabbè dai Oggi Stiamo distruggendo gli avversari In pratica Le partite sembrano abbastanza brevi Eh Magari dai Ci si avvicina il più possibile Ai 1800 Va bene così Questa quanto mi dà? Più 8 mi darebbe Quindi 1767 Ok 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 Va bene Eh E si mettono a pensare A un certo punto si mettono a pensare Catturiamo Bene Facciamo anche alfiere f5 Lui non può mai fare comunque c4 Altrimenti Gli rimane la torre sotto Quindi questo non mi preoccupa Devo dire Questo alfiere invece dà un po' di fastidio Sinceramente Però 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 Insomma Niente di speciale Niente di preoccupante Ah Vuole fare questa Bene Torniamo indietro Alfiere 6 Vuole fare re g2 Interessante Però il re lì sarà Abbastanza Fuori Insomma Abbastanza In pericolo Con una difesa del genere Però era un po' unica Era un po' unica No l'ha fatta davvero questa Ma che fai? Ma scusa eh Ma non c'è la torre in presa qua Ma che fa? Non ci riedo 1740 Ma dov'è la sua forza? Cioè non mi sembra un 1740 Guardate che disastro Eh Deve dare per forza praticamente l'alfiere no? Mamma mia che disastro ragazzi Che disastro Guadagniamo tempi Tempi preziosi Su re g2 arriva a cavallo Cavallo di 4 Questo è da abbandono Sì 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 Questa è da abbandono Troppo facili Troppo facili Avete visto? A volte ci sono degli episodi Dove tutto sembra difficile Altre volte Episodi dove tutto sembra facile Pazzesco Cioè oggi tutte troppo 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 semplici Siamo a 20 mosse E questa è da abbandono Dopo 20 mosse È incredibile sta cosa Qui deve catturare di cavallo Per forza Se no perché Se mangia le donne Mi sa che è un po' Un disastro per lui Ci può provare ma Eh lo doveva fare per forza Proviamo a mettere L'alfiere attivo In d4 Vabbè ora Torre 6 Torre 8 Fine insomma Fine dei giochi Ok torre 6 Torre 8 Eh si è Volevi Volevi Sta per arrivare Torre 1 Voleva aprire La colonna Qui lui Mi sa Però Penso sia un po' Disperata Ormai Per il nostro Amico Allora Scacco Deve prendere Prendo Si mi sembra buona Scacco Deve prendere di cavallo O può prendere anche di donna Per carità Però insomma Però insomma Mi sembra finita Questa partita Cioè avevo mille cose Potevo anche catturare il pedone Però Voglio chiuderla Il più velocemente possibile Checkmate Si becca il checkmate Mostruoso scacco matto Prossima 1831 Ok vediamo lui E poi via Fine 1767 Io Con lui più 9 Spettacolo Vado a 1776 Tutti che giocano Questa mossa Alfer c4 Incredibile 3 su 3 3 siciliane su 3 Alfer c4 Non è neanche la migliore Poi addirittura D3 Ecco Giocano Strano Vabbè Vediamo Questo c'ha 800 800 E 1831 Non si sa mai Vediamo Certo che qui Lui non facendo c3 Potevo fare anche Il sistema con d6 In realtà E cavallo f6 Però ormai è andata così Ormai è andata così Errore mi sa Ha già perso Ha già perso Ragazzi ragazzi Questa è la giornata È la giornata no Per i miei avversari Cioè ha già perso Questa è già da abbandono Perde un pezzo 1831 ragazzi Siamo su chess.com Sul sito considerato Diciamo il più veritiero Come forza di gioco Come punteggi 1831 Dopo 9 mosse È da abbandono La partita Partita a 10 minuti No per farvi vedere Che anche se aumenta il tempo Gli errori li fanno lo stesso Cioè non sono più partite Da 3 minuti Sono partite da 10 minuti Queste Queste a voglia Anche se gli dai un'ora Fanno questi errori Non è questione di tempo Cioè questa è da abbandono Ecco ha sacrificato un pezzo Bene Bene Pezzo per quanto Per due pedoni Eh almeno Ci ha provato Almeno dice Ci provo Perfetto Qui c'hai B2 in presa Attenzione Devi fare qualcosa Io sto per fare B6 Ecco infatti ha fatto qualcosa Io dicevo Stavo per fare B6 Al fine B7 E fine insomma Fine dei giochi Tranquillo Tranquì Tranquillissimo Tranquillissimo proprio Ma si ma si Recuperiamo un pedoncino Eh Si recupera il pedoncino Torre 1 Ha fatto Ok così Andiamo ad attaccare L'alfiere Che è pericoloso Quell'alfiere È pericoloso Pericolosetto Eh lui Lui se lo vuole Tenere a tutti i costi Ora faccio Alfiere B7 Intanto così Controllo tutto Si Si Così Così Va bene così Certo Mettimi i pezzi in presa 1831 Che mette i pezzi in presa Su chess.com Certo Fatti dare anche Matto in G2 Ora Vai Fatti dare anche Matto in G2 Non ci credo Ragazzi Cioè è un qualcosa Di particolare A volte sono tutti forti Nella stessa puntata Altre volte Tutti deboli Ecco Abbandonato Beh cosa dire Cosa dire Io cioè io Cosa devo dire io 1776 ragazzi Ditemi voi Cosa devo dire io Grazie a tutti Per la visione Di questo video Vi ricordo Di mettere mi piace E di iscrivervi al canale Ciao E alla prossima Grazie a tutti